Ciao a tutti proprio il turno, bentornati in nuovo video, allora in questo video è in segreto ottava puntata ed è concentrata sulla scuola, quindi inizio. Allora, primo, donna di 19 anni, in questo momento sto odiando il mio ragazzo a morte, lui deve andare in gita con la scuola per una settimana, ma lo sa che quando lui non c'è, per molto tempo io sto male, la stessa cosa è successa l'anno scorso, io sono stata molto male, non vorrei che quest'anno si ripetesse la faccenda, ma lui deve andare per forza, che è sclero. Ti posso capire perché quando hai un ragazzo, da fine conti, anche se stai per poco tempo non a contatto con lui, ti manca ed è una cosa normale, certo una settimana, basta in fretta comunque, sei tranquilla. Poi, due, donna di 17 anni, in prima superiore mi sono innamorata della mia professoressa di italiano, avrei voluto confidarle il mio amore, ma ha cambiato il cuore, prima che potresti farlo. E vabbè dai, magari la rincontrerai in futuro. Poi, allora, tre, donna di 17 anni, sono bisessuale, vado alla scuola privata, vengo discriminata per la seconda affermazione. Allora, purtroppo tanti hanno, diciamo, sono omofobi, quindi purtroppo sono così, stai tranquilla e vedrai che, insomma, ti passerà questo momento. Poi, quattro, un uomo di 16 anni, odia tutta la mia città, fatta eccezione per un paio di persone. Odio i miei amici, odio la mia scuola e soprattutto odio me stesso. Ah, bene, ottimo, odio tutti praticamente. Quarto, sì, uomo di 17 anni, ragazzino più peraltro, vabbè. Da piccoli, io e il mio vecchio amico, abbiamo pensato di fare dei giochi per i viti, chiedo, vabbè, facciamo perdere. Quarto, carrile, donna di 20 anni, ho fumato per la prima volta a 9 anni, a 9 anni, la canna dietro la scuola. Ma te non sei normale, a 9 anni adesso fumano le canna. Siamo a posto, siamo a posto. Poi, ultimo, allora, uomo di 17 anni, ragazzino. Una volta, quando ero in una scuola d'inglese, all'estero, una tizia faceva la gatta morta con me senza tenere risultati. Alla fine mi diceva che ero addormentato. Brutto scema, sono gay. Bella questa. Bella, bella. E niente, questo è tutto, questo è tutto per la puntata di Segreto d'Ottava. Più avanti ne ce ne saranno altre. E niente, fatemi voi sapere i vostri segreti della scuola. Diciamo che il mio è il fatto che non mi è mai piaciuto studiare, ma proprio a zero. Ho sempre odiato la scuola, mi è piaciuto studiare, infatti l'ho lasciata, proprio perché non mi piaceva studiare, non avevo voglia. E basta, questo è il mio segreto, è il bomb. Quindi, fatemi sapere, un bacio a tutti. Ciao a tutti, al prossimo video, ciao! Ciao!